Un bel applauso! Vorrei anche a farti notare che Benesso, davvero sportivo, si presenta sul falco con l'acqua e le piscine. Bella! Mi voglio fare un applauso perché anni e anni di attività fisica agonistica ti insegna a queste cose qua. Se Benesso, tutte le volte che vengono a ruttare, parliamo di che fa dai 100 ai 300 ruti al giorno, sento proprio quando... Proprio meno, no patatine. No, quando che noi la vogliamo ruttare, che proprio chi ne fa sento. Quando proprio dopo si impegna... Sai che sempre in mattina che ti dici un po' non ne ho, non voglio ruttare. No, esatto. E me ne fa sento. Esatto. Sono qui, si è più o meno come inflessioni. Esatto. E mai in settina... Non sei che puoi bere una pietra da mezzo a ogni rutto. Ragazzi, sono almore. Quindi... Che attacca a bevare acqua, ragazzi. Che fa bene. E ora mi ti dica, categoria durata, special guest. Partiamo. Fane capire cosa che sei a durata. Spero di ricordarmi ancora come si fa. Attacca i cronometri, ragazzi. Perché... Ehi, grazie. Ehi, grazie. Bel applauso. Grazie. Insomma, se tratta di un rutto che non ha una forte intensità. Però è gana durare tanto. È gana andare in durata. E se quasi un... Un borbottare tra sé e sé. Sì. Sì. E lei, diremo che è un rutto di flessivo. E lei ha un dialogo interiore. Cosa è una vibrazione. Esatto. Una vibrazione. Non diciamo a che livello. Maestro se non posso. Il nega è distratto da dietro le quinte. E ti ho visto che ti ha fatto ridere. Perché sei invidiosi. Perché hai paura che... Che ti puoi essere invidiosi. Se il campione indiscusso non puoi neanche più partecipare. Vutto fare l'altro. Se te ne fiamo fare l'altro davanti a tre quarti d'ora. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Saremo a serata. Saremo a essere un divo. Ti vedi come è un divo? Allora, è femmine che lo dispone. E ragazzi, ma io ti prendo i bassi, i mezzi. Attenzione. Senti, pubblico in delirio. Non fai niente. E ragazzi, è già avanti in altri venti minuti. Sei che a fine abbiamo visto l'arga. È che con il suo privilegiare il spettacolo, ho detto, capito? Se il teoregista può fare la suoneria dell'iPhone e fare la vibrazione insieme. Grande! Grande, un bel applauso! Grande, grande. Andiamo avanti qua a gara. Il polco di Alpinea. Cosa ha detto Pigosso? È giusto, è giusto. È giusto. Euriana, fate notare che Pigosso si va senza voce. E lui ha detto niente ancora. Uno, 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 uno. Aspetta, aspetta. E voi la seconda possibilità, hai capito? Che abbiamo un'altra possibilità. Che abbiamo un'altra possibilità, sì o no? Sì. Vai. Buon applauso! Che dire, è che una tecnica, prima che ha dato forte, fa la tua pietra come so a 500. Un bel applauso per il polco del Alpinea. Ma quando che che sia passione? No, che nello, numero uno. E ora, se muore.